Ciao a tutti, auguri mister, oggi è il compleanno di Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana al quale noi tifosi facciamo tantissimi auguri di buon compleanno e quindi oggi c'è questo avvenimento importante, tra virgolette, compleanno rosso-verde per il mister Lucarelli mentre per quanto riguarda la sua Ternana c'è la sosta, è andata alla sosta, una delle prime soste del campionato con un bottino di 7 punti, si rigiocherà sabato, non questo è il prossimo, mi sembra sia il 16 ottobre contro il Pordenone, è una trasferta, la Ternana avrà l'opportunità di allungare su una diretta concorrente per la salvezza e quindi indubbiamente sarà, non dico uno scontro diretto, però è una partita importante per la Ternana assolutamente anche per tornare ai tre punti dopo la sconfitta di Cremona subita per 2-0 quindi indubbiamente la Ternana da adesso in poi ha un calendario non agevole perché le partite di Serie B sono tutte difficili ma leggermente più facili delle partite avute finora per cui entrano in gioco Pordenone, Cosenza, Como, tutte squadre più alla portata rispetto a un Pisa che sta facendo un campionato straordinario o a una Scremonese stessa o a un Parma e Spalle che poi sono andate bene per la Ternana, comunque al di là di questo si aspetta il rientro in campo che avverrà non questo sabato ma il prossimo, quindi c'è questa sosta la Ternana nel frattempo ha perso Di Ometi che è uno storico tifoso e per quanto riguarda la Ternana più generale non ci sono a dire il vero tante notizie se non che ottobre è un mese importante per il discorso stadio-clinica ma vedremo anche lì come andrà a finire e rinnoviamo gli auguri al nostro mister al nostro tecnico Cristiano Lucarelli